I militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Palermo hanno dato esecuzione a un'ordinanza impositiva di misure cautelari personali in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della Didiani Sena, nei confronti di tre persone ritenute responsabili a vario titolo dei delitti di impiego di denaro, bene e utilità di provenienza illecita e di trasferimento fraudelento di valori con l'aggravante di avere commesso tali fatti al fine di agevolare l'attività di Cosa Nostra. Gli accertamenti dei militari della Guardia di Finanza a seguito della trasmissione del fascicolo alla Procura della Repubblica di Caltanissetta in relazione alle responsabilità di un vice procuratore onorario indagato ma non destinatario di provvedimenti irrestrittivi hanno consentito di appurare che soggetti coinvolti appartenenti alle famiglie mafiose palermitane di Brancaccio e Borgovecchio hanno investito cospicue quantità di denaro di provenienza delittuosa all'interno di attività imprenditoriali operanti prevalentemente nel settore della raccolta, smaltimento e rifiuti di cui sono risultati essere anche i gestori di fatto sebbene non abbiano mai ricoperto formalmente alcuna carica sociale né siano mai stati possessori di quota azionarie. La ricerca delle risorse finanziarie rientranti nella disponibilità degli indagati ha permesso di appurare infatti come le attività imprenditoriali siano state sovvenzionate mediante l'impiego di proventi derivanti all'attività delittuosa. Le misure cautelari personali costituiscono quindi l'esito di complesse indagini mediante attività di intercettazione telefonica ambientale nonché accertamenti finanziari e patrimoniali supportati dalle dichiarazioni raccolte da collaboratori di giustizia. Fondamentale apporto è derivato dall'approfondimento di segnalazioni di operazioni sospette riguardanti specifiche anomalie finanziarie. Si tratta di un approccio e di un metodo investigativo a carattere trasversale che parte dall'analisi delle segnalazioni previste dal nostro ordinamento quale cosiddetto presidio anti-riciclaggio e viene sviluppato attraverso i successivi approfondimenti sul piano finanziario, patrimoniale ed economico e riscontri investigativi.